Dopo la rocambolesca sconfitta del Bordeaux Caffè contro Roxy Bar di oggi, importanti dichiarazioni da parte della squadra? Sì, credo che la squadra ormai sia arrivata al momento che deve cambiare, l'età ormai media è oltre i 35 anni e quindi penso che oggi abbiamo avuto a fare una squadra molto giovane che ci ha messo in difficoltà, secondo il tempo è riuscita molto, dopo 2-0 abbiamo perso 3-2. Penso che sia il momento di cambiare, troverò un'altra squadra che sia degna nella mia altezza, sono giocatori che non mi capiscono, quindi questa è la mia dichiarazione, penso che vedremo, vedremo che da farsi. A presto per le risposte. Grazie, grazie a voi.